Musica Si chiama Pesaro Città da Mare ed è il nuovo videoclip in omaggio alla città della musica realizzato da professionisti pesaresi. Il progetto ha voluto mettere in risalto le bellezze e i luoghi simbolo di Pesaro, promuovendo la città nel mondo con le immagini dei luoghi più belli e attrattivi. Come è nata l'idea di questo videoclip? Ma è semplicemente nato dall'amore nei confronti della nostra città. Alessandro Clini che è autore con me di questa canzone mi ha cercato e abbiamo parlato di questo progetto. Abbiamo coinvolto degli amici musicisti pesaresi che hanno creduto nel progetto e hanno poi steso la partitura e siamo andati poi a ricercare tutti gli attori principali. Nel giro di due giorni abbiamo raggiunto più di 100.000 visualizzazioni, un grande successo. Un jingle che ha visto la partecipazione di tanti artisti che hanno messo a disposizione il loro tempo per la realizzazione del video regalando pochi minuti di allegria, dinamicità e freschezza. È un bel video, sì. Dato che è fatto da ragazzi giovani è molto bello. Cosa ti è piaciuto di più? Il fatto che hanno fatto vedere i monumenti più importanti di Pesaro e che hanno coinvolto i ragazzi a farlo e quindi è molto bello. Idea positiva dunque per la città? Sì, idea positiva. Cioè il video mi sembra comunque strutturato bene, gli elementi di Pesaro ci sono tutti, dal mare al centro, alla città, poi vabbè è girato da ragazzi dunque è una cosa molto fresca, molto giovanile, sembra fatto bene. Positivo per la città? Voglio, positivo certo, tutto quello che serve per incrementare anche il turismo, anche in generale far vedere le bellezze di questo paese, voglia. Allora signora, cosa ne pensa di questo video? Allora l'ho visto su Facebook, lo trovo quasi un tormentone, mi è entrato subito nell'orecchio, è carinissimo, si vedono tutti i posti suggestivi della nostra Pesaro, anche la musica, le parole, soprattutto il dialetto pesarese, mi sembra molto caratteristico, fantastico il video. Allora, secondo me il video è molto carino e divertente, sembra un videoclip giovanotto come ho detto, può essere utile, anche se comunque a Pesaro vedo che c'è abbastanza turismo in questi anni, secondo me è stata una cosa divertente e carina. Una canzone scritta a quattro mani dunque che rispecchia pieno tutta la bellezza di Pesaro e anche il dialetto locale ravvivato dal pesarese Carlo Pagnini, seduto su una panchina vista mare. Una canzone molto carina, un jingle che può diventare davvero un jingle di presentazione della città, quindi molto orecchiabile, che descrive le bellezze di Pesaro con un grande amore.